Chi è il più bello della nostra classe? Forse Luigi è il più bello. E trovo che anche Giacomo sia molto bello. Ah, sì? Sì, Luigi assomiglia a Tom Cruise. E Giacomo assomiglia a Nicolaus Holt. Nicolaus Holt? Lo zombie? Non lo zombie. Lo zombie romantico. E lui interpreta anche altri ruoli. Sì, ma ha un sacco di ruoli strani. E tu? Chi pensi sia il più bello della nostra classe? Senza dubbio, Tommaso. Lui sembra Christian Bale. Christian Bale? Dici sul serio? Certo! Christian Bale è affascinante in Batman. Anche Christian Bale svolge un sacco di ruoli particolari. E mi ricorda sempre quell'americano pazzo. No. Sì, ma c'è il canale.